È una mostra che appunto trova radici e pensiero nella storia della città, in realtà è un'idea venuta a due giovani cultori di arte, architettura e design che si chiamano Michele Giorgio e Carola Nava che a un certo punto abbiamo con Cornelia Mattiaccio affiancato per fare un racconto che parte da questa golden age, da questa età dell'oro dell'arte pesarese a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70 e tutta una serie di mostre che uscivano dalle gallerie e dai musei per invadere lo spazio della città, pomodoro, colla, poi burri, ceroli, modi molto diversi e abbiamo pensato di farlo da un lato raccontando la storia di quelle mostre, quindi c'è una parte storica con esposti alcune opere di pomodoro reali diciamo nella pescheria che è uno spazio che amiamo teneramente e poi però abbiamo anche voluto guardare al futuro invitando dieci giovani artisti, artisti, architetti come nell'interdisciplinarità di oggi a proporre delle installazioni, delle opere ispirate o localizzate negli stessi punti in cui pomodoro aveva collocato le sue sculture. Una serie di scatti originali di Ugo Mulas realizzati a Pesaro nel 71 durante la mostra scultura nella città alcuni di questi scatti inediti tra l'altro perché stampati per la prima volta proprio in occasione della mostra e due sculture che ritornano a Pesaro dalla mostra del 71 che sono Rotante Massimo e Colonna Intera Ricisa. Ho seguito tutti i dieci artisti per cercare di dare un'idea al personaggio e non all'artista, ho dovuto creare dieci video da un minuto che tutti creavano dieci minuti in totale che davano un immaginario dell'artista per dare un'idea di come persona, di come si è posta all'opera che doveva fare al luogo che era appeso. L'importante è questo tributo doppio nel senso che si parte dalla pescheria dove grazie al lavoro di Michela Giorgi, di Carlo Ranava coordinati anche da Pippo Ciorra permette di andare all'origine di quello che è stato lo spunto delle sculture in città addirittura con due sculture grandi di Arnaldo Pomodoro con le immagini incredibili di Mulas del periodo e anche con il racconto del lavoro di altri dieci giovani artisti che si cimenteranno con lo spazio urbano nei dieci quartieri più il municipio di Montesicardo della città. Un percorso che vivrà tutto l'anno, vivrà di un paio di aperture, inaugurazioni progressive al mese per opere ragionate con i quartieri, ragionate con i cittadini, ragionate con le comunità che in alcuni casi rimarranno anche fisse a patrimonio del quartiere, in altri casi avranno una vita diversa perché magari dematerializzate o pronte per essere collocate in altri punti sempre a decidere con i cittadini. Un percorso molto affascinante che dà il senso di una capitale che vuole basarsi sulla grande storia in questo caso del contemporaneo che reddita da 900 ma dare possibilità agli artisti di oggi di riattualizzarne e farne un racconto in avanti.